Colpisce il 2-3% degli italiani in forme di varia gravità, è caratterizzata da dermatite eczematosa e da un prurito che in alcuni pazienti è continuo e insopportabile. Stiamo parlando della dermatite atopica, una patologia di origine infiammatoria che ci facciamo spiegare dal professor Giampiero Girolomoni che abbiamo incontrato a Roma in occasione della presentazione della giornata nazionale dedicata a questa malattia. Professore, cosa è la dermatite atopica? È una malattia infiammatoria della pelle, molto comune, che spesso esordisce in età infantile ma può esordire anche nell'adulto e questa è la parte meno conosciuta in generale dai medici. La dermatite atopica dell'adulto è una malattia molto comune, in generale la dermatite atopica è la malattia infiammatoria più comune della pelle, però può presentarsi in forma lieve, in forma moderata o in forma grave. Le forme più comuni sono quelle lieve o moderate. Ecco, come si presenta? Quali sono i segni e i sintomi? Si presenta con delle aree arrossate, in fase acuta è sudante, quindi si formano delle microvescicole che rompendosi per il grattamento e gemono liquido. Si presenta con delle aree che noi chiamiamo eczema. Nella fase cronica diventa squamosa e quindi esfoliante, diciamo. Predilige in generale le pieghe, il collo, le pieghe dei gomiti e delle ginocchia, ma nell'adulto spesso il viso e il collo, quindi una dermatite visibile, e si associa, questa è una cosa molto importante, a un prurito spesso molto intenso. Il prurito è molto intenso e tale da interferire col sonno, con lo studio, con la capacità di concentrazione, con la capacità di lavorare. Cos'è la cosiddetta marcia atopica? La dermatite atopica condivide degli aspetti patogenetici con l'asma e la rinite. spesso è la prima manifestazione di queste forme respiratorie, diciamo. Marcia atopica perché lo stesso paziente, nel corso della vita, può presentare prima la dermatite, poi l'asma, poi la rinite. Spesso queste forme si danno il cambio, possono coesistere, ma possono anche, va via la dermatite e viene l'asma, va via la dermatite e viene la rinite. Chi sono e quante sono le persone colpite da dermatite atopica? 5-20% dei bambini, 4-8% degli adulti. Ripeto, molte volte forme lievi, minime, meno del 5% dei casi forme gravi. Forme gravi vuol dire paziente sofferente, paziente invalidato dalla malattia. Si conoscono le cause della malattia? Si conosce molto della dermatite atopica. Si conoscono gli aspetti patogenetici, molti geni possono essere coinvolti, ognuno con un piccolo contributo. Si conoscono molti fattori di rischio ambientali che possono scatenarla o peggiorarla. Come si fa a fare diagnosi di dermatite atopica? Quali sono gli elementi chiave? La diagnosi in genere è una diagnosi clinica. Basta l'esame obiettivo del paziente, riconoscere le lesioni, come si presentano e la loro distribuzione. Essendo una malattia molto comune, è da portare luogo a delle false diagnosi. Cioè bisogna stare attenti perché qualche volta sembra la dermatite atopica, in realtà è un'altra malattia. La biopsia dell'acute, alcuni esami del sangue, un'attenta valutazione dello specialista, in genere è sufficiente per fare la diagnosi. La biopsia dell'acute, alcuni esami del sangue, un'attenta valutazione dell'acute.